Se ne parla da più di 50 anni ed è arrivato il momento di mettere un punto, ne è convinto il sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina in Toscana ha portato con sé un telegramma sull'E78 risalente al 1969 dell'allora ministro ai lavori pubblici Giacomo Mancini. Ad oggi solo la metà del tratto è operativo e per dare un impulso al completamento dell'opera in tempi celeri, il primo cittadino e il sindaco di Gorsetto Anton Francesco Vivarelli Colonna hanno firmato un protocollo d'intesa affinché la strada dei due mari veda finalmente la luce. Visto che i lavori sono stati inseriti nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del PNRR e che sono previste ingenti risorse a disposizione della realizzazione di infrastrutture, i due sindaci vogliono cogliere questa opportunità. Tra i punti cardine del documento c'è la volontà comune di sensibilizzare gli organi competenti affinché la superstrada venga realizzata nella sua interezza, possibilmente con quattro corsie di marcia per una maggiore sicurezza degli automobilisti. Sì, è un'infrastruttura strategicamente parlante importantissima sia sotto l'aspetto dell'asse europeo ma anche per l'Italia centrale. È un collegamento tra i due mari voluta da tantissimi tempi, dobbiamo tornare al secolo scorso quando è stata pensata giustamente e iniziata a progettare. Siamo nel 2021 e questa infrastruttura purtroppo non è ancora arrivata al suo culmine. Questa è un'occasione straordinaria, importante, che vengono messe in campo, che va accolta. Uniamo le forze, ha aggiunto Vivarelli Colonna, per far sentire la nostra voce chiedendo risposte concrete e veloci. Nonostante le diverse appartenenze politiche, avviamo una collaborazione per il bene dei nostri territori. Seri poi ha snocciolato quelli che sono i passi successivi alla sottoscrizione dell'intesa. Coinvolgeremo, ha detto, il commissario straordinario nominato per la Fano Grossetto Massimo Simonini, ma anche tutti i rappresentanti dei luoghi attraversati da questa arteria, dai presidenti di regione ai primi cittadini, così da agire organicamente nei confronti del governo. Mi auguro, ha concluso Seri, che altri sindaci aderiscano al documento che vuole finalmente portare a compimento il progetto che collega il terreno con l'Adriatico lasciato in disparte fino ad oggi. Perché due sindaci? I sindaci sono pragmatici, i sindaci sono quelli che quando è il momento di assumersi le responsabilità sono sempre in prima linea e colgono e capiscono quelli che sono i bisogni e le risposte da dare. Anche perché noi non possiamo trovarci delle giustificazioni quando la gente ci chiede una risposta possiamo trovare la scusa una volta, ma poi la seconda dobbiamo essere concreti. E allora ci siamo ritrovati, Grossetto e Fano, per condividere questo impegno, per fare in modo che coloro che hanno la responsabilità possano veramente dare la spallata finale e realizzare questa infrastruttura importantissima per tutti noi. Ma soprattutto, e qui la vera nocciola della questione, che non venga ridimensionata. Perché ridimensionata significherebbe creare degli imbuti, sarebbe perdere quel valore che la infrastruttura può portare. Quindi siamo insieme, fianco a fianco, con l'intenzione di coinvolgere tutti i colleghi interessati dall'infrastruttura e le tre regioni.